Anna Buonaiuto, a teatro, giusto la fine del mondo, che spettacolo è e che personaggio è il tuo? È un testo di uno scrittore francese che si chiama La Garce e la regia è di Francesco Frangipane. È un testo a sei attori, si svolge all'interno di una casa, naturalmente dove nascono dei grandi conflitti. Il tuo personaggio in particolare che donna è? Comincerò a studiarlo tra un po', alla lettura, è molto forte il suo carattere di madre ma senza essere convenzionale. E cos'è per te il palcoscenico rispetto al cinema ad esempio? Il luogo dell'attore. Grazie mille. Grazie a te.